Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Inizio oggi il racconto spontaneo. Il villaggio dei panda In una zona ricoperta da bambù vivevano dei panda. Essi amavano giocare e divertirsi, godendo insieme dei bellissimi giorni. Finché un giorno Lilo, stanco della vita da panda, disse al suo capovillaggio. Scusami signor Peng, io sono stufo di alimentarmi di bambù e vegetali. Desidero conoscere altri alimenti, se è possibile. Potresti consegnarmi quali? Il signor Peng rispose al giovane panda. Ragazzo, noi siamo panda, siamo nati vegetariani. Non possiamo nutrirci di altro. Su, non pensarci. Essere un panda è entusiasmante e dovresti esserne fiero. Lilo, ascoltando le sagge parole di Peng, ritornò dai suoi amici, orgoglioso di essere un panda. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!